Nella sala incontri dell'Ufficio a relazioni con il pubblico del Consiglio regionale in via Arsenale a Torino è esposta fino al 13 novembre la mostra Torino Incisa, curata dall'Associazione Gli Amici dell'Arte di Pianezza. L'allestimento propone una trentina di opere realizzate da 20 artisti che hanno intrapreso un percorso di approfondimento dell'arte incisoria. Gli anni scorsi abbiamo presentato opere su Torino di pittura, pittura d'olio ed acquarelli. Quest'anno, visto che abbiamo un bel gruppo di incisori, abbiamo pensato di presentare questa mostra Torino Incisa che propone alcuni aspetti di Torino e dintorni di Torino che vengono proposti con una tecnica ormai sembrerebbe obsoleta ma che sta riprendendo molta passione e molta voga, quindi Torino Incisa. Ci sono degli scorci molto belli su Torino, è una mostra godibile, fruibile e quindi ci auguriamo di poter continuare, di poter esporre in questa sede.